Da Parlami d'Amore, Mariù del 32, fino alla canzone di Elisa nel 2022 a Sanremo, passando per Mina, passando per Gino Paoli, Tenco e molti altri. Saravasto il repertorio che domani al Miela, con inizio alle 16.30, Alessio Colauti affronterà nel penultimo appuntamento con il cartellone 2023-2024 di Note in Caffè. Lo farà, come recita il titolo, passeggiando tra le canzoni italiane. Canzoni che comunque tutti abbiamo sentito, cantato, provato a canticchiare. Poi canzoni che hanno la particolarità di riuscire a dire e ad esprimere quello che noi tutti proviamo, ma alle volte non sappiamo come esprimere. Colauti non sarà solo sul palcoscenico. Francesca Marsi mi accompagnerà, sarà insieme con me in scena, oltre ai tre musicisti, Giovanni Toffoloni al basso, Paolo Muscovia alla batteria, e il maestro Marco Balabenga al pianoforte. Domenica 5 maggio, sempre alle 16.30, è in programma l'ultimo appuntamento del ciclo, dedicato alle operette che caratterizzeranno l'estate triestina. Ma Colauti ritornerà in scena con un altro, seppur breve, ciclo di appuntamenti. Con la solita appendice di rassegna, dal titolo Il teatro in giardino, tre giovedì, uno in giugno, uno in luglio e uno in agosto, al giardino pubblico Musco di Tomasini. Sarà una rassegna tematica, ma sempre con gli stessi interpreti, io e Elisa Colummi, che declineremo tre spettacoli con tre argomenti diversi.